Questo pomeriggio mi dedicherò all'individuazione della squadra, sicuramente come ho detto in questi mesi saranno persone rappresentative della coalizione e della società civile della Resina perché vogliamo rappresentare al meglio quelle che sono le esigenze e le istanze di tutta la città. Alcune mediche importanti, sicurezza e efficienza amministrative sono i cavalli di battaglia di questa campagna elettorale e ho annunciato già qualche giorno fa che saranno in capo al sindaco e penso che se fosse fare molto più di quello che è stato fatto andando in di strada i numerosi vigili ancora in uffici e rendendo il più efficiente possibile una macchina amministrativa che oggi può essere veramente potente. Sindaco, poi chiudiamo, lei ha annunciato già ieri sera nella comunità di questa amministrazione e giovedì comincerà ad incontrare tutti i cittadini che lavoravano sicuro, non poteranno andare a capire in finita. Assolutamente sì, da come dì si inizia, dalle 8 alle 8 di sera, incontrerò i Beresini e spero che vengano numerosi proprio per rappresentare le varie istanze e soprattutto spero che escano dal mio ufficio con le risposte che aspettano da tanto tempo. Vediamo se ci sono altre domande da studio, se no mi restituisco la linea. Grazie. 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 Grazie.